Dicarazione Maurizio, una dichiarazione di mezzo. Che tipo di dichiarazione? E beh, dai, una dichiarazione della vittoria. Noi siamo scontenti, ci abbiamo creduto fin dall'inizio, abbiamo fatto una politica porta a porta, andando a spiegare alla gente le nostre idee, il nostro programma, non siamo caduti in provocazioni rispondendo a chi ci ha buttato fango per settimane addosso. La fortuna, come dicevo prima, è che Asti è un paesone. Tutti ci conosciamo, quindi puoi anche raccontare che Rasiero Maurizio è un bandito, un delinquente, tutto quello che vuoi, ma la gente sa che non l'ha. Oggi Maurizio Rasiero è il sindaco e cercherà di essere il sindaco di tutti gli astigiani.